ciao raghi bentornati in un nuovo video su cookie run kingdom è uscita cherry blossom cookie una ambush bellissima che mi rappresenta in tutto e per tutto e quindi almeno una copia la voglio portare a casa come sempre il sogno è riuscire a farla almeno c2 c3 proprio voliamo però sono anche uscite le nuove skin bellissime quindi io 25 pull in da parte anche nel banner delle skin e spero tantissimo di trovare proprio quella di cherry ma non solo quindi vedremo che cosa troveremo ad ogni modo sono innamorata di questo nuovo aggiornamento con degli eventi pazzeschi quindi adesso ci godiamo le pull e speriamo di trovare quello che voglio bello draw all di tutti i treasure e vediamo che cosa esce qua va bene un po di tutto tanto si accumula velocemente i treasure quindi trovo non è che si faccia andare a lui dalla storia ok ok buona vediamo quanti gli api ci vedremo buono è inserlo a 7 ok ho questo lo scendo è già qualcosa sono contenta di questo di qua questo ma se c'è già mazzato ragione ormai sono alcuni di quelli comuni sono già mazzati anche quello l'ho appena mazzato questo lo portiamo su ma anche questa mazzato mi lasciamo fare mazzato questo è buono sono molto contenta di questo qua molto 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 tutti comuni tutti comuni questo lo portiamo doppiamente su ok un po quasi questo portiamo su questo abbiamo già fatto su un strumento dopo o lo portiamo su lo stesso per portare su un ultimo stacchettino per andare su una parola di oduro a vedere come se percepite quando la barra si vuole per fare il livello è sempre una gioia ho questo qua è più buono un altro di questi già già venuto per scendere ulteriormente ai comuni comuni buono si deve anche quello dopo questo molto buono lo so fa inizio gioco questo è stato tantissimi ma l'abbiamo ok ok abbiamo fatto prima molti nel banner della bellissima cherry portatecela a casa dai cherry cherry epico vediamo blackberry un biscotto comune beat un frammento di cherry night tre frammenti di licorice beat epico dai 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 no è latte è latte è latte niente non è uscita è uscita non è uscita tra l'altro io latte ce l'ho già quindi più 800 perché l'ho già maxata e niente è uscita latte che però ormai ho già maxato quindi non mi serve proprio lei quando la trovo tutti i frammentini ok ci serve cherry blossom cookie let's go epico noi non ci facciamo problemi ok allora ginger brave intero ninja blackberry muscol cherry pancake raro gamble ok dai cherry dai cherry no dark cacao anzi no questo è dark choco ma che dark cacao magari dark cacao no dark choco cookie però vediamo terza terza molti da solo da solo con l'epico da solo ok ok da solo e quando dall'epico da solo mi emoziono sempre perché quando vedo da solo non me l'aspetto mai no cioè so che può succedere ma non me l'aspetto mai ok un epico c'è vediamo cos'è due latte ninja angel cherry ginger brave custard dai 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 cherry cherry no affogato affogato cookie affogato cookie si affogato oh my god mi mancava l'ultimo affogato è vero l'avevamo detto ci mancavano pochissimi frammenti nel banner di affogato per portarlo ancora su wow bene bene lo portiamo a quattro stelle ok prossima molti dai cherry una cosa prima copia di cherry epico ecco qua molti con epico dammi la prima copia di cherry e un comune è un comune perché sì frammenti comuni frammenti comuni frammenti rari frammenti rari è tipo un escalation frammenti comune si scende ecco primo epico dai cherry 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 yes perfect wonderful picnic oh eccola qua la prima è arrivata bellissima tra l'altro l'animazione penso sia la mia preferita innamoratissima bellissima oh oh carina è bellissima la adoro veramente quindi ok la copia l'abbiamo ora vediamo se riesco a farla a due stelle dammi un'altra cherry visto che c'è un altro epico qui altra cherry due di espresso che ho già maxato altra cherry altra cherry no espresso che ho già maxato mi sono tutti maxati oggi ho già 5 stelle anche espresso quindi ho altri 800 di questi mi porterò a 5 stelle qualcun altro eccola è arrivata bellissima bellissima ok andiamo avanti con la prossima multi epico nel caso comunque si feri grazie ok beat ah subito epico cherry cherry yes l'abbiamo presa l'abbiamo preso la seconda cherry quindi l'abbiamo portata a una stella ottimo ottimo cherry è una stella adesso cherry è una stella benissimo il resto della multi non ha epici però ce lo guardiamo lo stesso magari c'è qualche frammento leggendario di siferi perché l'ho chiamata si sa mai ok un altro raro perché ne abbiamo fin troppi pochini ok wizard un altro raro oh comunque mi danno un sacco di questi mi sono contenta io sono contenta ok senti con la prossima multina rara ok si si grazie 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 si grazie mille grazie veramente questo è un regalo figate grazie grazie veramente grazie 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 veramente si due frammenti me ne mancano due finalmente ragazzi c'è finalmente grazie 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 veramente veramente solo grazie solo grazie 18 di 20 si ancora non ho si fegni e gioco da metà danno anche di più evviva dai forza 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 voglio gli altri due dove sono epico nemmeno i frammenti quindi è stata veramente una gioia vederli ok raro raro comune comune cherry 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 no caramel va bene dai caramel non ho portato tantissimo su quindi va bene mi stanno lasciando tutti i fegni usciti adesso incredibile tutti i fegni che sono usciti in questi ultimi banner mi stanno ritornando non è il banner in etapa di caramel però questo mi scusi signorina caramel eh cioè anche lei doveva scegliere un altro momento per passare però va bene va bene finché non sono maxati sono contenta che mi ha dato anche tutti quelli che ho maxato praticamente manca solo cotton poi siamo a posto quarta ultima multi epico 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 let's go un epico ma ormai non ci spero più a questo punto sto solo sperando che mi escono gli ultimi frammenti di siferi che mi mancano voglio solo quelli il resto rimanga dov'è non c'è problemi voglio soltanto gli ultimi due frammenti di siferi per dire ho tutti i pg del gioco anche qua ok gamble oh mio dio oh mio dio l'ho fatto davvero l'ho fatto davvero l'ho fatto davvero l'ho fatto davvero ragazzi ragazzi si ragazzi è vero è vero l'ho fatto veramente dammi quello che ti pare va bene tutto latte un'altra va benissimo ragazzi mi hanno dato i tre non ci credo non ci credo non ci credo finalmente dopo cento anni oh si feli anche io non ci credo ragazzi oh tutti i pg del gioco anche qui si 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 non ci credo favore una cerra in tre multi sono malissimo ragazzi una cerri in tre multi lui da solo si sa come mai epico ok dai una cerri una cerri per favore una cerri ebata poi non chiedo nient'altro oggi uno squid dai cerri una cerrina cerrina forza si ok abbiamo raggiunto tutto quello che volevamo oggi tutto quello che volevamo oggi mi manca un frammento ragazzi in questi due multi posso trovare l'ultimo frammento l'ultimo frammento in due multi perché 29 mi fa arrabbiare voglio l'ultimo frammento questo qua l'ultimissimo 29 di 30 abbiamo due multi per il 29 di 30 quindi let's go non importa che ci siano epici infatti va bene raro va bene raro ma mi dai il frammento top fatto abbiamo fatto si può sbancare si può sbancare si schippa la multi ora no scherzo non la schippiamo abbiamo le ultime due ce le godiamo però è fatta è fatta grazie grazie tantissime grazie tantissime veramente grazie grazie oh sono veramente rai oggi ho il hashtag scuro maui sono proprio felicissima veramente felice 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 ma allora ma oggi che cos'è ma ma che cosa ma che cos'è oggi l'ultima multi di oggi sul banner di pg che c'è quello delle skin non so nemmeno se c'è un epico l'ho schippato l'animazione non lo sappiamo non lo sappiamo magari non c'è niente ci sono due frammenti di sherry e va già benissimo così altri due frammenti di sherry adesso si è risvegliata sherry si è resa conto che questo era il suo banner ok sherry ok sherry va bene ok fatto dopo una vita finalmente è arrivato il mio momento il mio personaggio prefi tra l'altro esteticamente che non mi era mai uscito ed è finalmente a casa finalmente anche io mi godo questa animazione sono felicissima i feel the warmth of your heart oh si 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 andiamo prima una singola e poi 5 molti singoletta dovrebbe essere comune yes comune magari carrot non scusate avocado nuova si avocado nuova perfetto la nuova la nuova comune l'abbiamo portata a casa top top bene adesso andiamo con le multine io spero almeno una su 5 esca un epipo però mai dire mai non penso in realtà uscita però andiamo prima molti ok dovrebbero essere tutti comuni magari c'è un raro però comunque una multi molto shaft questa raro c'è un raro quanti rari ci sono? due possono essere le nuove che sono carrot mushroom che è bellissimo e devil oh questa mi mancava ok e questa ce l'avevo già di squid va bene va bene me ne mancava una io finché trovo roba che mi manca sono contenta ok prossima multi sempre scam dall'apparenza fuori vediamo se per caso c'è un raro epico c'è un epico c'è un epico è tutto scam poi quindi queste le ha però le ho tutte tanto ok no ce l'avevo già era sorbet va bene però ho un sacco di frammenti 95 ragazzi posso prenderne una allora abbiamo ancora tre multi andiamo qui ci dovrebbe essere sicuramente dei rari 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 perfetto ci sono tre rari nuovi oh tutti rari ok vediamo se c'è uno di quelli nuovi ce l'ho già oh mi mancava questa questa ce l'ho già l'ho trovata prima questa ce l'ho già e questa ce l'ho già doppia va bene ok una mi mancava buono buono ok finché una mi manca sono contenta poi ultime due qui ci sono tutti comuni credo forse c'è un raro ok un raro c'è un raro questi li apriamo veloci no questi due mi mancavano mi mancavano delle comuni non lo sapevo oh crimpuff è bellissima questa la volevo un sacco ok vabbè sono contentissima e ultima multi epico c'è l'epico nell'ultima multi epico nell'ultima multi ce n'è uno per forza dalla immagine esatto c'è un altro epico se per caso mi desse cherry sarei felicissima ma se non me la prendo con i punti quindi comunque sono a posto però me lo risparmierei i punti ok togliamo le comuni a sto giro penso di averle veramente tutte ok e questa è no una di quelle di Halloween strawberry crepe non ce l'avevo questa si un'epica che mi mancava la notte è bellissima perché ha i gatti e la volevo un sacco ma non l'avevo mai trovata e quindi bella bella veramente bellissima 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 bellissima